Buongiorno a tutti, grande famiglia, fratelli e sorelle care, bentrovati. Oggi è un giorno bello. La Chiesa ci invita a celebrare la memoria del Santo Curato d'Ars, San Giovanni Maria Vienney. Il curato fu mandato appunto in questa piccola comunità. La gente non frequentava la Chiesa, trovò la Chiesa vuota, completamente vuota. Si inginocchiò e cominciò a pregare tutti i giorni e pian piano, con la preghiera, quella casa si riempì. Noi pensiamo che le cose hanno successo per le nostre capacità umane e per le nostre qualità. Il successo viene dalla Santa Benedizione del Signore. La preghiera è ancora l'arma più vincente che abbiamo. Noi preghiamo? Come preghiamo? Quanto preghiamo? E nella preghiera cosa chiediamo? San Giovanni Maria Vienney è il patrono dei parroci. Io sono parroco, tanti sacerdoti, i vostri parroci. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere per diventare santi sacerdoti, perché il sacerdote o è santo o è meglio che non lo sia proprio sacerdote. E allora con il Salmo 50 prego insieme a voi queste parole che possiamo fare tutte nostre. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Chiediamo al Signore oggi per intercessione del santo curato d'Ars San Giovanni Maria Vienney un cuore nuovo, uno spirito saldo. E soprattutto con la preghiera, con la preghiera affrontiamo la vita di tutti i giorni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo l'aiuto del Padre Celeste, Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un atto di affidamento alla Madonna. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Oggi non ci sarà la diretta del Rosario e non sarà neanche presente in parrocchia perché ho una presentazione e testimonianza del libro a Cropani Marina, provincia di Catanzaro, all'interno del centro culturale Cropos, che si trova all'interno del centro commerciale La Torre, alle 19. Se qualcuno di voi amici è in vacanza in questi villaggi da qualche parte o gli amici di queste zone, se volete vi aspetto. Un bacio, buona giornata a tutti. La preghiera è la nostra forza, la nostra arma, il nostro scudo e soprattutto la preghiera con la fede smuove le montagne. Vi voglio bene.